è stato il gruppo un gruppo veramente splendido un gruppo unito c'è tutto c'è tecnica c'è fisicità siamo molto soddisfatti perché quando siamo arrivati c'era un po delle difficoltà proprio nella parola gruppo poi piano piano col proseguo delle partite veramente è diventato un gruppo unito e molto forte beh diciamo che eravamo sicuri insomma di quello che avevamo però non era sicuro perché sinceramente questo campionato è bellissimo e ci sono veramente diverse squadre che con un tasso tecnico veramente elevato io lo dedico a noi allo staff a fabrizio palando e anche poi al presidente soprattutto a noi allo staff ormai sono diversi anni io da mora e stefano mosciatti che lavoriamo insieme e ci troviamo bene perché abbiamo le stesse idee di calcio ci piace vedere il bel gioco e avere una squadra aggressiva che ha fame questa è questa è una squadra che ecco ci ha messo in condizioni di lavorare bene perché sono ragazzi che veramente ci hanno voglia di fare e ci hanno vanno